L'esordio di Tiago Motta è ok, tra rovesciate, spettacolari e punizioni magiche il Genoa baffi il Brescia Cioè ragazzi abbiamo trovato in questo nuovissimo video nel quale voglio parlare un po' del Saturday Night Però prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace e un commento E poi vi consiglio di iscrivervi al canale e seguirmi su Instagram, link in descrizione Comunque ragazzi nel primo tempo forse leggermente meglio il Brescia E diciamolo, ha dovuto un po' aggiustare gli schemi Tiago Motta Non tanto per il modulo perché si è discusso molto sul suo 2-7-2 Visto in maniera un po' più orizzontale, con calcio un po' particolare Ovvio non si è vista subito la sua mano L'importante era riparare, poi bisogna costruire, ma prima di tutto le fondamenta E bisogna quindi riparare un po' le fondamenta che sono state distrutte dall'esperienza di Andrazzoli E diciamo che per il momento l'ha fatto Questa era una sfida, questo era un match molto importante in ottica salvezza Il Genoa è riuscito a vincerlo Però diciamo che nel primo tempo, alla fine del primo tempo, la scena se l'è presa tutta Sandro Tonali Punizione spettacolare ragazzi, bellissima Da posizione molto defilata, dalla sinistra la mette sotto al 7 Per me c'è la complicità anche di Radu che doveva leggere in maniera migliore la tagliattoria Però ragazzi, gol fantastico e non possiamo fare altro che toglierci il cappello di fronte ad una giocata del genere Di un classe 2000, quindi giovanissimo E Cellino, proprio qualche ora fa, ha detto che per lui Tonali vale 300 milioni Ovvio, questa è una provocazione, però fa intendere che lui non lo vuole vendere E ha anche detto che sarà pronta a fare un grande sforzo economico pur di trattenerlo Adesso la palla passa a Tonali in senso lato Perché comunque se Tonali decidesse di andarsene È chiaro che se andassi in una big giocherebbe molto di meno rispetto al Brescia E per me farebbe bene rimanere un po' lì prima di ambita di una grande squadra Perché comunque ancora deve fare il salto di qualità definitivo Per potersi consacrare, per poter giocare con continuità anche in una squadra più forte, più competitiva rispetto al Genoa Poi comunque in apertura di ripresa, diciamo dopo una ventina di minuti segna a Gudeglio Rispolverato completamente da Tiago Motta Era finito fuori dagli schemi di Andrazzoli Tiago Motta l'ha rivisto, l'ha messo in campo e ha dato subito i frutti sperati Bel gol ragazzi, bel piazzato, ma poi avviene un'altra rete spettacolare Onestamente non saprei bene quale scegliere come giocata della serata Comunque se la rovesciata o, dico a me appunto, o la punizione di Tonali Vi lascio il sondaggio nelle schede, votate voi Perché comunque non sono in grado di decidere Io non penso di poter decidere Comunque due giocate così belle e così affascinanti Comunque a me sfrutta al meglio un cross di Ghiglione Dalla destra buttandosi praticamente quasi alla disperata Ma la prende in maniera perfetta Coordinazione esemplare E Iorone non può far altro che toccare il pallone Ma di fatto le mani vengono piegate E poi comunque segna anche Pandev Che dalla destra si accentra e calcia sotto al 7 Col suo mancino letale Il Genoa vince Allontana per il momento un po' la zona rossa Anche se ovviamente non si può considerare soddisfatto Dell'inizio del campionato Prima di tutto, come detto, Tiago Motta deve pensare a riparare Poi si costruisce Però prima di tutto bisogna fare le fondamenta di una casa E poi cominciare a mettere i mattoni E vi ringrazio per la visione Vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento Un'iscrizione al canale Ciao a tutti